sede oramai storica della Rassegna e ad Anagni nella Sala della Ragione. Un appuntamento culturale di alto livello che vede quest'anno la partecipazione di più di 100 artisti provenienti da tutta Italia e da tutto il mondo, in particolare dalla Spagna, dall'Inghilterra, dalla Germania e degli Stati Uniti, sia da New York che dalla California. Una partecipazione che conferma la crescita culturale della manifestazione e l'impegno delle città di Anagni e Frosinone, sempre più al centro dell'attività artistica di tutta la Regione Lazio, presente alla Quarta Biennale con il proprio patrocinio. Nelle tre location della Biennale le inaugurazioni si terranno domani, martedì 3 aprile alle ore 18 presso la Villa Comunale di Frosinone, mercoledì 4 aprile alle 11 presso il Palazzo della Provincia e giovedì 5 presso la Sala della Ragione di Anagni. Alle cerimonie di inaugurazione è prevista la partecipazione delle maggiori autorità e di tanti artisti che si sono affrettati ad esporre le loro opere, dai dipinti alle installazioni, alle sculture, alle tante fotografie che prenderanno parte all'apposita sezione della Biennale d'Arte Contemporanea che prevede anche i settori dell'area sacra, oltre alla videoarte e l'arte virtuale. Le opere esposte, circa 200, quest'anno hanno raggiunto un elevato livello artistico. Per il vincitore è previsto un premio acquisto di 1000 euro messo a disposizione dal Comune di Frosinone. Fuori concorso hanno voluto essere presenti con le loro opere grandi maestri della pittura a livello internazionale, come Ennio Calabria con Il Vagito del Mostro del 2017, che ha fatto parte di una mostra dedicata al tema. Poi René Oianni, la cui personale è prevista alla Villa Comunale nel mese di maggio, e Marco Gizzi, il grande artista di Ceccano, noto per le sue meravigliose tele iperrealiste. Presenti anche Mariangela Calabrese e Mario Casalesi, insegnanti del liceo artistico Bragaglia, quest'ultimo che vanta una sua opera nella cattedrale di Frosinone. E poi ancora Elena Sevi, la scultrice di Donnarte, Carlo Cecchi e Patrizia Molinari, che ha insegnato per anni all'Accademia di Belle Arti del Capoluogo Ciociaro. E ancora Nardi, di San Giovanni in Carico, Rita De Luca con le sue sculture in marmo, e Mario Patrizzi, con la sua nuova produzione geometrica, insieme a tanti altri.